ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti nella mia night routine finalmente pollice in su se aspettavate questo video ce l'ho fatta io torno a casa la sera sempre molto tardi perché vado in palestra butto la borsa butto tutto per l'aria e mi dedico cinque minuti a giocare con il mio cagnolino dopodiché vado in camera da letto inizia la mia night routine vera e proprio si inizia a buttare per l'aria tutti i vestiti mi scoccio di mettermi il pigiama di struccarmi ma ce la faccio e indosso il mio pigiamino questo carino carino che vi ho mostrato in uno degli ultimi blog tutti i miei acquisti sexy e fucciosi poi trasferisco nella stanza mia del studio col computer dove qui consuma un mio snack pre nanna sempre mando qualcosina prima di andare a dormire devo una camomilla e poi mi metto un po a computer a montare qualche video a lavorare a computer a qualcosa sempre per youtube a questo punto voi ragazze inizia la mia skin care notturna quindi vado in bagno inizio a struccarmi a mano in cuore ma lo faccio sempre perché importantissimo per la pelle struccarsi sempre utilizzo dei dischetti di cotone mi strucco con questo nuovo metodo stia mettendo un po di tonico un po di olio extravergine d'oliva quello che ho in cucina sul dischetto e così lo passo su tutto il viso dopodiché mi lavo con un detergente questo lo sto provando e ve ne parlerò prossimamente in un video su prodotti da suo mercato costa pochissimo e mi piace molto mi lavo tutto il viso e mi asciugo sempre con un panno in microfibra perché voi sapete che io adoro tantissimo utilizzare panni in microfibra per eliminare tutte le impurità dal viso poi mi pettino le ciglia e poi dopo passo il tonico su tutto il viso poi lascio asciugare nel frattempo che si asciuga prima di mettere la crema mi lavo i denti non su voi ma io quando mi lavo i denti vado girando per la casa faccio mille cose guardo il cellulare insomma sono un po una pazza a questo punto quindi prendo la crema idratante questa ve l'ho mostrata nell'ultimo video sui prodotti da suo mercato e 10 prodotti sotto 5 euro appunto lo trovate sul canale mi piace tantissimo la massaggio sul viso con movimenti circolari verso l'esterno la uso anche sul contorno occhi perché antiluga e mi piace veramente tanto poi metto la crema per le mani sempre prima di andare a dormire soprattutto l'inverno perché le mani ce l'ho sempre molto secche e quindi per idratarle per prevenire i danni del freddo finalmente posso andare a dormire tutta bella struccata in pigiamata metto sotto carica il telefono la cosa più importante perché la notte serve per dormire ma soprattutto per caricare il cellulare poi mi raggiunge la mia cagnolina pupi che ovviamente vuole dormire con me quindi dopo aver fatto un po di coccole aver guardato un po il cellulare quindi gli social instagram youtube risposto un po ai vostri commenti alle ultime mail siamo pronte per dormire quindi ci mettiamo sotto le coperte il mio e praticamente va sotto a tutte le coperte e non soffoca mi piace dormire così e pazza anche lei come la padrona e quindi vi auguriamo la buonanotte speriamo che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like e tanti commenti vi mandiamo un bacio grande e buonanotte ah e non dimentichiamo il burro cacao prima di addormentarsi cosa fondamentale sono malata di burro cacao ciao buonanotte